Benvenuti a Speciale Touch, sono qui con Eleonora Giovannini e farò una breve intervista perché ho avuto l'onore di leggere in anteprima un suo nuovo libro che a breve verrà pubblicato dal titolo 12 passi Eleonora 12 passi perché? Cosa significano 12 passi? Beh io non vorrei svelare del tutto il significato del libro perché altrimenti nessuno andrà a libreria a comprarlo giusto Simona? Giusto! Allora però possiamo dare un'infarinata e dire che oggigiorno siamo tutti un po' alla ricerca della verità che poi è anche la ricerca della felicità perché in fondo sono due cose che coincidono non c'è felicità se non c'è verità no quindi abbiamo tutti bisogno di questa parola magica che rimanda non solo all'onestà ma rimanda all'autenticità della persona, alla purezza dell'animo ed è grazie a questa purezza che noi possiamo compiere questi passi nudi sulla terra che sono dei momenti che corrispondono a delle tappe ben precise della nostra esistenza partendo dalla nascita fino all'ultima tappa che è quella della morte e quindi attraverso questo percorso piuttosto complesso perché comunque ha a che fare proprio con la vita quindi non è un percorso teorico ma un percorso pratico che io cerco di spiegare come una sorta di guida umile all'interno del libro dobbiamo riuscire a raggiungere noi stessi e quindi in un mondo nel quale tutte le persone tendono comunque ad uscire da se stesse ad andare al di fuori a viaggiare ad esplorare per conoscere si dimentica che invece l'origine ricca e succulenta della conoscenza e soprattutto della nostra stessa natura è il nostro io e quindi non bisogna uscire ma bisogna entrare quindi è un percorso al ritroso. Ecco io ho notato una cosa molto importante perché mi sono molto emozionata leggendo quel libro perché anche essendo scritto da un'altra persona però è come se ripercorressi un po' la tua vita cioè ti porta dentro la tua vita e quindi è come se quel libro fosse un po' autobiografico per ognuno di noi e questo è molto importante perché significa che riesci a trasmettere con la tua scrittura un concetto complesso come quello della vita perché è formato da tante cose in un modo semplice cioè la tua scrittura arriva diretta diretta e questo secondo me è una delle cose più importanti oggi dal punto di vista della comunicazione perché facciamo sempre più difficoltà a capire cose difficili in modo semplice, ce la complichiamo la vita la stessa anche quando proprio viviamo nel quotidiano e quanto ha influito l'esterno oggi? Non so che passo sei, io posso dire a che passo sono io, però quanto ha influito l'esterno nella tua vita? Cioè ti puoi dire scondizionata, non so se si usa in italiano, dall'esterno oppure sei riuscita a mantenerti totalmente nella tua interiorità? Io l'ho persa un po', diciamo. Beh intanto bisogna dire che per ritrovarsi bisogna perdersi, questa non è una mia massima, quindi è chiaro che io mi sono persa mille volte, non sono un guru, non sono un saggio, sono una persona che ha attraversato con mille ostacoli come tante altre persone chiaramente, non sono l'unica, le vicissitudini della vita, negative e positive e quindi chiaro che c'è anche una sorta di introspezione, non di autobiografia, ma di introspezione che è diverso perché guardare dentro se stessi significa scoprire quei mondi interiori che tutti hanno, quei mondi che abitano in ognuno di noi e quindi siccome io sono un essere umano, anche tu lo sei, è evidente che quello che io vado ad esplorare, a riconoscere, a riscoprire è anche tuo e appartiene a te ed è universale. Quindi come diceva Leopardi alla fine la sofferenza non va vista in un'accezione negativa, cioè la sofferenza è quella condizione che ci permette poi di elaborare una vera felicità, se la si vive e se la si vede proprio per come è la si elabora più che altro quella sofferenza. E meno male che c'è qualcuno che dice che Giacomo Leopardi non era negativo. Io l'ho adorato, lo amo tuttora e nonostante un nostro libro di Marker De Canati, però La Ginestra è una delle poesie secondo me più belle in assoluto e più rappresentative anche in questo senso. Esatto, però questo libro secondo me è molto interiore, da spunto per delle riflessioni ad ognuno di noi penso e io appena l'ho letto ho detto che mi sono emozionata perché ho rivissuto un po' la mia infanzia, la mia vita e mi ha fatto riflettere su come forse perdo tanto tempo a correre dietro al tempo. Certo, è la riscoperta della memoria perduta perché siamo talmente sommersi da questo tecnicismo che è la nostra vita, siamo talmente presi dal materialismo, da quello che dobbiamo fare, dall'orario da guardare che dimentichiamo la parte più bella della vita. Ce l'hai ancora il fanciullino? Quello c'è sempre stato dentro di me, altrimenti non avrei potuto scrivere questo libro. Sai che anche io penso che ce l'abbiamo, qualcuno lo mangia. Tutti ce l'hanno, certo il fanciullino in ognuno di noi è implicito questo, purtroppo lo dimentichiamo, infatti io parlo molto nel libro di recupero della memoria che è una memoria spirituale, una memoria interiore, non ha nulla a che vedere con la ragione. Pensi che potrà aiutare questo libro a qualcuno che è nella fase di perdita di se stesso a potersi ritrovare? In primo luogo ho aiutato me stessa perché io l'ho scoperto scrivendolo, lo scrittore è un po' come un profeta perché rivela principalmente a se stesso quello che lui ancora non sa di scrivere, mentre lo scrive lo scopre, quindi c'è una magia nella scrittura ed è chiaro che scrivendolo poi si scrive anche per gli altri e si spera che sia utile anche agli altri, credo che potrà essere utile. È molto utile, te lo dico da lettrice perché a parte che l'ho letto veramente d'un fiato perché essendo un capitolo connesso all'altro volevi subito vedere come… ed è stato motivo proprio di riflessione, di spunto di riflessione, ma soprattutto la cosa importante è che è stato motivo di riflessione per il futuro, perché è come se mi dicessi fermati, prenditi il tuo tempo, goditi le tue riflessioni, i tuoi momenti e guarda al futuro in un modo diverso, dentro di te, non da fuori a dentro, ma da dentro a fuori. Questo è il messaggio che a me è arrivato e guarda… La pelle rocca addirittura? Sì, perché mi ha emozionato tantissimo questo libro e vorrei che venisse comprato da tutte le donne in evoluzione interiore, perché è un percorso difficile per una donna che ha sofferto nell'infanzia, nell'adolescenza soprattutto il rapporto conflittuale con la mamma, l'antagonismo e questo libro secondo me potrebbe aiutare anche nel post a ritrovare quella parte di sé che abbiamo ceduto, un po' per l'egoismo della nostra società in cui viviamo. E secondo te i nostri figli sono al sicuro? Adesso ti faccio io delle domande, vedi la deformazione professionale. Io la cosa che cerco di fare con mio figlio è mantenere la sua spontaneità, di non condizionarlo, è un po' quello che nel tuo libro, però non lo voglio svelare perché è talmente bello che se lo devono andare a leggere… Però qualcosa possiamo dire… Sì, quello che diciamo tu chiami e se non erro non l'insegnante, lo chiami in un altro modo, adesso non mi ricordo, però quello che deve insegnare al proprio figlio che può essere il genitore, l'insegnante della scuola, non deve condizionare la sua personalità, l'insegnante o il genitore dovrebbero adeguarsi loro alla spontaneità del figlio e non dire quello che loro vorrebbero per il proprio figlio, fai così. Ad esempio, un esempio stupido, se un figlio è mancino, non obbligarlo a farlo diventare destroide, già lì è un condizionamento importante anche nella psiche del figlio, quindi io lui per carità ha mille difetti, mille pregi, però lo amo così, cerco di mantenerlo inalterato affinché lui possa trovare la propria identità e non sia io a condizionare questo sviluppo interiore. Sì, perché si deve trattare sempre di un condizionamento positivo, ovvero della riscoperta, della valorizzazione del patrimonio che è già presente all'interno del bambino, quindi il vero educatore è quello che mette il faro all'interno di questo ricettacolo che è del bambino e valorizzandone il contenuto a se stesso e anche al bambino che magari ha bisogno di comprendere quello che ha dentro di lui, quello che abita dentro di lui. Io sono convinta che se un bambino macchiare la sua spontaneità, sarà un bambino felice, un adulto sereno diverso, perché poi la felicità da grandi sprazzi, mentre la serenità è una cosa che ti dà l'idea di qualcosa di più costante, però se sei sereno riesci ad essere anche felice e quindi io penso che se un bambino sia proprio felice e sereno nella sua spontaneità possa mantenere proprio quel fanciullino che purtroppo ce lo perdiamo nella crescita. Certo e tutto questo dobbiamo farlo attraverso dei percorsi e quindi dei passi, io li ho definiti così passi, perché implicano anche il libero arbitrio, quindi implicano la scelta e la volontà, non è una cosa così spontanea, non si tratta soltanto di ispirazione o di un momento d'estasi, sono percorsi di evoluzione che necessitano una partecipazione attiva. Che poi il passo dà l'idea del movimento che può essere in salita, in discesa, in pianura a seconda delle fasi della vita e io se penso alla mia la vedo inizialmente molto in salita, poi c'è stato un momento e adesso la vedo diciamo in pianura. In pianura, ma infatti le fasi che corrispondono a questi passi sono quelle esistenziali. Oh, tra una decina d'anni la vedrò in discesa. No, guarda fra 10 anni ancora tu sarai molto giovane, però in età senile la corrispondenza di questa tappa è quella dell'infanzia, perché nel libro io metto in effusione questi due momenti, che coincidono come una sorta di cerchio che tende poi a chiudersi e a tornare a se stesso. La tenerezza che provi nel bambino la ritrovi poi nell'anziano, a me è bellissimo quel pasto, però non vi dico qual è perché tanto magari lo capite, però quel libro è bellissimo. Grazie, complimenti Eleonora, veramente! Grazie, complimenti Eleonora! Grazie! Grazie a tutti!